Ciao a tutti, io sono Tommaso, amministratore e founder di Golè. Io sono Filippo e mi occupo di marketing e comunicazione all'interno di Golè. Ma che cos'è Golè? Golè è una piattaforma digitale che ha come scopo digitalizzare il mondo sportivo dilettantistico partendo dai settori giovanili. Golè dà una serie di servizi digitali a diversi utenti nel mondo sportivo dilettantistico. Questi utenti sono tifosi, allenatori, giocatori e società sportive. E per ognuno di questi utenti dà funzionalità diverse. Quindi per la società sportiva dà la possibilità di aprire un gestionale per la gestione amministrativa e sportiva dei suoi tesserati. Per quanto riguarda gli allenatori dà funzionalità di gestione allenamenti e gestioni tabellini delle partite. E per quanto riguarda giocatori dà l'accesso a un profilo che è il profilo dal giocatore che è molto simile a un social network per i giovani ragazzi che giocano a calcio. La piattaforma è una piattaforma unica perché tutti riescono a comunicare tra di loro. Noi siamo attivi, noi veniamo da Rimini, per cui siamo attivi principalmente in Emilia Romagna e parte delle Marche. Siamo attivi da qualche mese sul territorio e con questa opportunità riusciremo ad essere attivi anche su tutta la Lombardia con l'obiettivo di allargarci in tutta Italia nel giro di 12 mesi.